Che era una Cantu da lavoro in corso l'avevamo già capito dal quadrangolare del trofeo Lombardia nonostante la finale raggiunta. Gli uomini di Paschlin hanno palesato gravi dei limiti strutturali anche ieri sera nella risicata vittoria di un punto contro i ungheresi del Sonnoki. Pronti via ed è subito Andric il problema numero uno in post basso dove l'esperto centro croato fa letteralmente a fette la difesa di Cantu con sei punti consecutivi che portano gli ungheresi a metà primo quarto sull'undici a due. Cantu risponde con Gaines e Mitchell che si mettono in proprio e ricuciano lo strappo fino all'undici a otto. Cantu sotto canestro soffre troppo i chili di Andric. Paschlin fa un'ottima mossa mandando spesso in aiuto dal lato debolo Mitchell che con i suoi centimetri e la sua fisicità porta buoni dividendi con palle recuperate che portano i brianzori punto a punto. Blacks diventa un fattore e quando riesce a giocare in isolamento per la difesa del Sonnoki c'è poco da fare. Questo però non impedisce agli ungheresi di chiudere il primo quarto avanti di uno grazie anche al suo playmaker Vojoda che da tre punisce spesso i raddoppi canturini sul perimetro. Il secondo è il terzo quarto vede le due formazioni sempre punto a punto ovviamente con temi tattici molto differenti tra le due antagoniste. Il Sonnoki è sempre alla ricerca di Andric dentro l'area per poi far scaturire tutta una serie di penetre scariche dal perimetro dove Cantu lascia spesso tiri aperti. I brianzoli invece cercano di sfruttare al massimo le giocate dei vari Mitchell, Blacks e Davis in post basso ed è proprio quest'ultimo autore di un buon terzo periodo a lanciare il mini break che porta i bianco blu sul 53 a 45 di fine terzo quarto. Nel quarto periodo Cantu per la prima volta sembra avere in mano l'inerzia della gara ma tre palle perse consecutive fanno ritornare gli ungheresi in partita nel loro peggior momento quando sembravano sul loro del KO. E come se non bastasse ci si aggiunge un ottimo Milosevic che spesso in agilità batte i lunghi di Cantu. Il serbo infila otto punti consecutivi facendo calare il buio sul paladesio. Cantu che sembrava avviata verso il break decisivo si trova invece sotto 63 a 60 a tre minuti dalla fine. Ma Gaines risponde colpa su colpa agli ungheresi. Prima con una giocata dal playground e poi con una tripla a cui si aggiunge il solito Blacks. Difficile da fermare a Spalacanesso. Ma Vojod e Andric da sotto riportano Sonokhi a 10 secondi dalla fine a giocarsi la vittoria con palla in mano. La pressione sul perimetro Canturina e la poca lucidità dei Maggiari porta ad una palla recuperata che vale la vittoria per 69 a 68. Nel match di ritorno in Ungheria non ci sono molto calcoli da fare. L'imperatore categorico è solo quello di vincere per evitare già inizio stagione una brutta delusione.